Ho! Mettiamo la braccia? Dai, 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 dai! Ho! 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 A cavalli, già! Rompi, adesso, girò a cavallo! Ok, la fatta premia, ci sono dei cavalli! Siete pronti? Sì, 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 ho! E voi siete partiti a cavallo? E voi siete partiti a cavallo, ci sono dei cavalli! Sì, 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 ho! Vendiamo un pochino tracce! Vendiamo un pochino tracce! No, no, è il numero uno! Sì, sì, sì! Vendiamo un pochino tracce! Siete pronti! Sì, sì, ma è salato! Al prossimo sinistro proviamo un giro da per l'interno Vai, ritornati Al prossimo sinistro proviamo un giro da per l'interno Vai, ritornati Al prossimo sinistro proviamo un giro da per l'interno Al prossimo sinistro proviamo un giro da per l'interno Al prossimo sinistro proviamo un giro da per l'interno Al prossimo sinistro proviamo un giro da per l'interno Al prossimo sinistro proviamo un giro Al prossimo sinistro proviamo un giro da per l'interno Al prossimo sinistro proviamo un giro da per l'interno Al prossimo sinistro proviamo un giro da per l'interno Al prossimo sinistro proviamo un giro da per l'interno Al prossimo sinistro proviamo un giro da per l'interno Al prossimo sinistro proviamo un giro da per l'interno Al prossimo sinistro proviamo un giro da per l'interno Al prossimo sinistro proviamo un giro da per l'interno Al prossimo sinistro proviamo un giro da per l'interno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.